Ed eccoci qua al mercato di Ventimiglia, potete vedere la stracchetta dei prodotti raccolti, il mercato che si svolge giornalmente, un sacco di prodotti belli, ben vestiti. Oh, ecco qua il maschio gelatario Lillo, cosa fai Lillo? Eh, sto cercando un po' di pietra rama, fai un po' di pietra rama, fai un po' di pietra rama giusta, Quanto al forno, novità? Più grande signora, devo prendere un po' di pietra rama, grazie. Ah quindi nuova specialità? No, non è nuova specialità quando mi piace il gusto, in genere lo faccio in qualità per me. In gelata alla barbavietola? Sì, un po' di pietra rama che si può prendere i pietra rama. Ah, benissimo, ormai siamo partiti qua, specialità. Quanto a quanto pena signora? Aspetta che ne mettiamo il paralogno. Guardate qua, è una stanza. Ancora dalla terra. Perfetto signora, grazie. Ci va parecchia lavorazione per questo? No, è una cosa abbastanza semplice, è solamente la volontà di farle le cose. Come al solito la saggezza del buon Lillo. Arrivederci alla prossima.